Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo di nuovo sulla Surreal Powers Home Una serie che abbiamo iniziato appunto per costruire la casa di Surreal Powers nel corso del tempo Poi lui l'ha modificata anche perché ho visto i video recenti e in effetti ci sono alcune modifiche da portare appunto a questa casa Iniziamo subito, per esempio notavo che qua sotto ci sono dei log Tac, così, esatto, perfetto in questo modo E lo stesso dall'altra parte, quindi utilizziamo anche dei log qua, bam, perfetto Detto questo che cosa andremo a fare? Dobbiamo andare a prendere della... ci serve dei... non dei log, bensì del legno lavorato Quindi dove stanno? Ecco qua le planks, dark wood, dark oak planks, esatto perché sono molto 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 scure E li andremo a mettere qua, ci servono i planks e soprattutto ci servono i slab Quindi slab, roba varia e li andremo a mettere qua intorno, dato che la casa è alta 3, è giusto, perfetto Ci sono qua tutti questi slabini, qua sopra c'è quello centrale e poi ce ne sono altri 3, perfetto Una roba del genere, detto questo poi ci sarà da fare uno il soffitto sempre con le dark oak planks E poi ci sarà anche da fare la parte sopra che è fatta di quarzo e con gli altri... gli spruce planks, perfetto Ora, tornando a lavorare alla facciata Guardavo che qua sotto è alta un paio e non ci sono, ripeto, non ci sono i legni... i legnetti, insomma Cioè non ci sono i vetri, scusate, non c'è la vetrata Che cazzo dicono? Io non so parlare delle volte Aiutatemi! Ok, quindi facciamo una roba del genere Vediamo anche qua sotto, perfetto Portiamo giù questi 3 E qua sotto ci possiamo anche andare a mettere del terreno Perché tanto non si vede dalla casa Perfetto, una roba del genere Perfetto, meraviglioso, fantastico Carino, mi piace Ok, molto molto fedele a quello che è la riproduzione Adesso andiamo a vedere un po' come fare il soffitto Stessa cosa, anche qua facciamo questo Una volta fatta sta roba qua Questo perché va anche girato Andiamo a metterci del quarzo Però del quarzo normale, non il quarzo... quarzo... questo quarzo qua, esatto E lo andiamo a mettere intanto qua Tac, esatto, perché sono due Si stacca di due e c'è questo Si stacca di due e c'è questo, perfetto Stessa cosa di qua Poi va messo qui il quarzo E così facendo da tutte le parti L'ultimo va messo qua sopra E ci siamo, perfetto Ora andando a mettere questi cosi qua Tac, tac Questo, vabbè, va messo anche in mezzo Ci mettiamo la trapdoor E l'andiamo a mettere qui Perfetto, trapdoor messa E lì a massima ci dovremmo essere Ora le scale Andiamo a vedere la questione scale Perché non è che sia proprio, proprio Facilissima da interpretare Dark oak Eccole qua E andiamo a mettere così Però si vede In teoria penso sia fatto proprio così Questo sicuramente Sta parte è proprio identica Questa parte così Mettiamo magari un po' più scale Adesso vediamo come viene fuori l'ultima parte Sopra c'è lo slab Quindi va bene Carina l'idea dello slab sopra mi piace Da riutilizzare magari anche in minecraftita Perché se non Infatti non sai mai come fare il tetto Tutto il resto Oh, qui che ci metti la scala? No Il cazzo No, qui non ci va la scala Qui c'è la scala o lo slab? Non si capisce che non c'è No, è scala Perfetto Ok, ci siamo Risolto l'errore Così Ci metti sempre questo Lo levi Grazie Insomma, lo finisci Lo finiamo Beh, oddio Ci sta abbastanza Cioè, è abbastanza simile come cosa L'unico problema Che io riesco a trovare È questo Discrepanza qua Questo blocco Questo blocco qua Che non capisco come cazzo sia fatto Vi giuro Mi rimane abbastanza ostico capirlo Però Perché se tu vai da qui La guardi da lontano Non ci dovrebbe essere Questo blocco qua Eppure Eppure Lì ai massi Ma c'è Infatti Dovrei andare a risolvere Non lo so Ah no, ma perché manca la colonna esterna No, non manca la colonna esterna Ok, cazzo manca Ma questa è da studiare Non lo so se c'è davvero Questa parte qua o meno Però Ho guardato la pianta Quindi lì ai massi Ma sì Adesso Comunque Bando alle ciance Dobbiamo tirar su L'ultima parte Che Non è Forse la parte più difficile Dobbiamo andare a fare adesso Dobbiamo andare A tirar su Il Il soffitto Questo Sì, il soffitto Questa parte qua E il lia ai massi Ma dovrebbe arrivare Un po' più alta Ah, questo sicuramente c'è Ma forse dobbiamo alzarlo Un po' di più Esatto Perché questo Si va a scontrare Con le scale Quindi qua sicuramente Ce n'è E poi le scale Partono da qua Vediamo se Vi assomiglia abbastanza Come cosa Ah, no Questo sta più avanti Così No, così è stra Così è stra brutto Voglia però Non è che si capisce Gran che bene Quanto sia alto Devo verificare meglio Beh intanto L'idea penso sia Di ricoprire Anche tutta Sta parte qua No, almeno facciamo Una cosa unica E non ci scordiamo Poi evitiamo Anche di far cazzate Perché magari Sbagliamo a mettere A prendere qualche misura Facendolo più tardi E vorrei decisamente Evitare sta roba qua Quindi facciamo Questo, questo, questo E questo M'ho messo qui Questo lo mettiamo qua Lo chiudiamo Adesso metto tutte le scale Allora, sono sempre più dubbioso Sull'esistenza di questo Coso qua Ma se non ci dovesse essere Lo leviamo con MCedit Al massimo Quindi Non è proprio Problematica La situazione Qua dentro sto tracciando Il percorso Che ci serve Appunto Per fare La parte interna È fatto così Perfetto E adesso Andremo a mettere Alcuni di questi blocchi Perché Il pavimento interno È fatto con il quar Con i bon block Cazzo Non è quarzo Sono bon block Infatti convinto Fatto col quarzo Con il quarzo Invece no Sono attualmente Bon block Perché è un blocco Veramente veramente figo Il bon block Ve lo ricordo A me piace un sacco Comunque Lo utilizziamo Eccolo qua Sì sì esatto E gli slab in mezzo Poi sono di quarzo Infatti mi sembrava Un po' strano La colorazione Buono Molto molto bene Molto molto bene E quanti sono? Sono Uno, due, tre Quattro e cinque Uno, due, tre Quattro e cinque Eccoli qua Tac Messi tutti E cinque Dopodiché poi ci sarà Uno il tappeto Da utilizzare Ma va bene Questo non è difficilissimo Il tappeto da piazzare Un disegno abbastanza Dico abbastanza semplice Perché parte da qui Fa due Tre addirittura Due così Infatti resta fuori uno Poi c'è quello centrale E probabilmente è fatto proprio Una roba del genere Tac Tac Perfetto Ok dopodiché Ci abbiamo Ma cinque no Perché scusa Ne dovrebbe avanzare uno Se seguendo la mia logica Perché sono Uno, due, tre Quattro, cinque E Ah ma da qui Uno, due, tre Quattro Tre, cinque, sei Ok ce n'è un altro E infatti è buono Così Mettendone un altro Poi abbiamo la possibilità Intanto di utilizzare gli slab Perché Sì Perché ci sono qua sopra Tutti i slab Qui c'è una fila di slab Poi dopo Il terreno si alza un po' Mettiamo questi Ok slab Dopodiché ne dovremo mettere Tutta la fila E va bene Però non è proprio fatto così Perché ce n'è uno così Ma non si toccano E qui non si tocca a me Se si tocca Non si tocca Figa Ok Adesso so perfettamente Come funziona Qua ci dobbiamo mettere questo Questo lo possiamo togliere Mettiamo due di qua Perfetto Stessa cosa qui Questi li leviamo Perché erano due In prospettiva Si vedeva soltanto uno Ok Questo è quanto Dopodiché poi continuerà Perché ce ne sono Magari tutta un'altra fila Ce la possiamo mettere di blocchi Ma qui sicuramente C'è un'altra fila E poi il resto Lo andremo a vedere Comunque stiamo facendo Anche un po' all'interno Il che non è male Devo informarmi Devo capire bene Fatemelo sapere voi Anche se c'è sta linea Di mezzo o meno Perché il video È abbastanza complicato Non si capisce bene E poi dovremo capire anche Sta iniziando a piovere Su come fare La parte centrale Adesso infatti Mi andrò a vedere Bene il sopra E tentiamo di fare Anche sta navata centrale Dopodiché Siamo pressoché a cavallo Perché ci manca davvero poco Allora Le modifiche che ho fatto È stato mettere la chest Qua Mettere questo qui E questi due Sostituire le scale Con il blocco Cioè le scale Il blocco con le scale Esatto Poi ho fatto Sta scalinata Ho fatto tutto questo Ho ricontrollato Che sia come dicevamo noi Perfetto Ora Detto questo Ci serve Dobbiamo alzare ancora questo Perché non è proprio Proprio come me lo aspettavo In verità Ancora non ho capito Quanto sia alto E più che altro Questi due Probabilmente Non ci sono Non so perché Io ce li abbia messi In tutti i casi Andremo a togliere Con mc edit Facciamo un bel ritaglino Ci lasciamo soltanto Questo Esatto come il lato Principale Perché c'è anche Questo sopra da mettere Tac Perfetto E basta Ok Che da qui Si entra direttamente Nell'altra stanza Nelle altre stanze Stessa cosa di qua Dovremmo fare l'apertura Non qui Ma su questa linea Ok Chiudiamo il cancelletto Fai così E qua Ok Si scende Poi si andrà Nella libreria Che è attualmente qui Che dovremo appunto Perché per regolarmi Per quanto riguarda il soffitto L'idea sarebbe proprio Fare una roba del genere Guardate Tac Metti questo 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 Tutti così No Ok E poi che vai a fare E E Massimo dovrebbe stare qui per forza Perché sta qui per forza Perché non è che puoi tirarlo tanto su In mezzo al vetro È bruttissimo E quindi Un'idea Proprio di soffitto E della potresti fare Eh Pensando A mettere Un coso qua sopra E ci siamo No come dimensioni Poi Ti riesci anche a regolare Facendo gli interni Per la parte sopra il soffitto Quindi Idea massima Ci siamo Questa Sta venendo abbastanza bene Dovremmo rimuovere Penso questi due Queste due parti qua Perché davvero Non si possono vedere Secondo me Ho commesso degli errori E E basta poi C'è soltanto sta parte Che sono due blocchi Avvicinare tutto questo E poi ci siamo Ragazzi Vi faccio che per questo video Possa essere tutto Vi ringrazio tantissimo Per la visione Vi ricordo Un bel mi piace Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Se avete già fatto Di condividere i video Su Facebook E fammi uscire una persona Mi raccomando Lasciate tutti i link In descrizione Facebook Instagram E Telegram Come diciamo Come al solito A un prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti